In ogni passaggio fino alla firma conclusiva... Dovrebbe essere una cosa normale che il Parlamento venga... Non vedo niente di eccezionale. Quando sento queste dichiarazioni, anche da parte dei politici, non da Gomez, direi che firmerei quello che lui ha detto totalmente. Questa è una notizia. Esatto, questa è una notizia, perché ha detto in parole molto semplici quello che la gente non capisce. Ma quella che diceverà informato il Parlamento di volta in volta. Ma io vi chiedo scusa, ma è una cosa più... Ma poi è una materia così delicata, no? Ma è tutto delicato quello che arriva in Parlamento. Vi chiedo scusa, quindi non vedo niente di eccezionale. Vedo un fatto normale. Allora voglio chiedere a Macalù su un'altra cosa.